Restano solo quattro pazienti in attesa della negativizzazione nella clinica Sarafele di Sulmona che dopo settimane di contagio e preoccupazioni torna a respirare e si avvia la definitiva archiviazione del focolaio covid-19. Questa mattina infatti sono stati dimessi della struttura sanitaria i quattro pazienti covid che sono risultati negativi e due tamponi portando a termine percorso di guarigione dal virus. Sempre in giornata sono stati svolti i tamponi sugli ultimi quattro pazienti che restano ricoverati in clinica. Si tratta del test di conferma che si rende necessario per completare la negativizzazione da covid visto che ieri hanno già avviato la guarigione con il primo tampone negativo. La giornata di domani potrebbe quindi sancire la definitiva risoluzione di un fronte delicatissimo, l'unico che ha preoccupato sul territorio visto che in ospedale la diffusione del virus si è limitata per il momento all'unica operatrice del 118 contagiata anche se nei prossimi giorni si procederà ai tamponi di conferma per gli operatori sanitari finora tutti negativi. Nella giornata di oggi sono scattati finalmente i tamponi a domicilio dopo la battaglia efficace del Tribunale della Sanità e di Onda Tg mentre continua la tregua dei contagi segno che l'allarme starebbe rientrando fatta eccezione di un trasferimento nell'ospedale dell'Aquila di una persona con sintomi covid anche se secondo i sanitari le possibilità che possa trattarsi di coronavirus sono pressoché scarse. L'unico nuovo caso che si è registrato oggi in provincia dell'Aquila si riferisce ad Avezzano. Restano 58 i casi covid accertati nell'area Peligna di cui 37 in isolamento domiciliare in attesa di negativizzazione mentre sono 19 i covid nell'Alto Sangro. Anche lì la situazione appare decisamente sotto controllo. L'altalena dei contagi covid segna invece un nuovo calo. In giornata in Abruzzo sulla nostra regione dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 2.667 casi positivi al covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara dall'Istituto Zoprofilattico di Teramo dall'Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 55 casi su un totale di 1.151 tamponi analizzati il 4,7 per cento di positivi sul totale. Nella giornata di ieri 20 aprile i positivi erano stati 91 su un totale di 1.274 tamponi analizzati il 7,1 per cento.